Ok, andiamo avanti, abbiamo la nostra displacement map vediamo come possiamo utilizzare questo displacement map quindi per cominciare, facciamo un piccolo esperimentino nel senso che andiamo su, ok vedete che siamo in un livello diverso e su questo livello diverso cominciamo a costruirci shift a un piano, questo, l'allarghiamo un attimo, questo piano questo piano facciamo un po' il mestiere che abbiamo fatto prima quindi gli facciamo una UV mapping ah no, la UV mapping ce l'abbiamo già di là, quindi ok, usiamo pure questa UV mapping fatta su questa cosa qua quindi facciamo in edit mode, facciamo l'U reset quindi vedete che lo mappiamo esattamente su questa immagine e poi però per riuscire a vedere l'effetto della displacement map abbiamo bisogno di aggiungere un modificatore per avere un po' più punti ora la cosa più semplice in realtà è quella di mettere un subsurf perché il subsurf aumenta, ti permette di mettere tanti punti ok, quindi prendiamo i punti e vediamo quindi se riusciamo a però magari facciamo ecco, simple, ok mettiamo anziché catmullclark, mettiamo il simple in modo tale da conservare almeno la forma del nostro piano ora a questo punto quello che vogliamo fare è aggiungere a questo piano un modificatore che chiameremo displacement, displace, ok quindi questo è il modificatore displacement il displacement lo troviamo vedete che qui abbiamo allarghiamo un po' così vediamo qui abbiamo sopra subsurf e sotto il displacement e vediamo un po' quale texture gli vogliamo applicare e gli applichiamo questa texture che abbiamo creato prima che è la texture ora cliccando qua vediamo che possiamo associare questa texture all'immagine effettivamente di prima displacement che abbiamo visto prima e quindi noi possiamo vedere un po' se riusciamo a vedere l'effetto del nostro oggetto quindi andiamo torniamo qua vediamo un po' gli effetti che vogliamo ottenere quindi andiamo su su displacement e proviamo a vedere se ampliando, modificando il nostro dunque vediamo un po' ecco vedete adesso dobbiamo cliccando qua vogliamo vedere quindi possiamo vedete controllare la forza vedete che si ha un po' quello che dicevamo prima cioè l'immagine che erano due cose i due cilindri le sfere eccetera vengono in qualche misura applicata però abbiamo visto che per vederla applicata in una maniera interessante occorre aumentare le subdivision quindi qui mettiamo subdivision 6 vedete che abbiamo praticamente l'immagine di partenza ottenuta però a costo di usare tantissimi vertici però la cosa fondamentale è che questa struttura tridimensionale che vedete è stata ottenuta semplicemente applicando un'immagine che è questa quindi andiamo in tab ok vedete che questo è l'effetto quindi noi siamo in grado di produrre questo effetto diciamo semplicemente senza partendo solo da questa immagine di displacement diciamo che questa è la base che vedremo applicato adesso invece su nel prossimo video appliceremo questo concetto a una struttura tipo la sfera un pochino più complicata qui potremmo anche vedere se può aver senso andare in shading e in effetti perrebbe ecco lo shading migliore nelle strutture e quindi abbiamo una struttura un pochino più diciamo cioè il panorama che abbiamo visto prima viene applicato in maniera un po' più pulita vedete poi voi se nel vostro caso è meglio flat piuttosto che smooth quindi al prossimo video per vedere l'applicazione di questo displacement ad una struttura che non è così semplice e lineare ma è ad esempio una sfera o un toro o un toro